premendo la levetta il registre telescopico sezionerà in questo caso nella posizione bassa che salirà vediamo il movimento da più sott'anno se non si percepisce ecco la bremo avete visto come si è alzato nella posizione predefinita per riportarlo nella posizione bassa con il peso del corpo dovete semplicemente appoggiarvi sulla sella e scenderà quindi assolutamente comodissimo per la percorsi enduro ci sono continui cambi di pendenza di oscillazione piccole salitelle è fondamentale vedrete che mi ritorna tantissimo anche per la discesa avere una posizione più arretrata e quindi ad affrontare i vostri percorsi maggiore sicurezza ecco